Mestiere, Gigolo, un fenomeno che sta prendendo sempre più piede. Negli ultimi anni sono nate molte scuole per diventare Gigolo di successo. Sarà la crisi, saranno i tempi che cambiano, fatto sta che sempre più uomini decidono di fare accompagnatori a pagamento promettendo, se si desidera, anche prestazioni di tipo sessuale. Il mezzo principale attraverso cui girano le richieste e gli appuntamenti è il web. Basta andare su gigolo.it e rendersi conto che solo a Rimini esistono oltre 50 maschi in vetrina che si concedono con il loro corpo. Si può filtrare una ricerca specifica in base ai propri gusti, decidendo il colore degli occhi, dei capelli, l'altezza e così via. Alcuni volti sono in bella vista, altri censurati. In alcune immagini il primo piano va su glutei o addominali. I numeri e le email sono quasi sempre presenti. Certo nessuna donna è mai stata ditata per aver pagato un uomo in cambio di una prestazione sessuale e magari gli agenti della municipale non multerebbero mai una signora per essersi accostata a un uomo su lungomare di Rimini. Sarebbe una cosa impossibile fuori dalla realtà. Secondo un sondaggio di una nota rivista per donne, sono soprattutto le signore fra i 30 e i 40 anni, nel 38% dei casi, a noleggiare un uomo, seguite da quelle di età compresa fra i 40 e i 50 anni, il 25%. Di esse, il 23%, lavora come imprenditrice. Le altre sono manager, 19%, consulenti, 15%, libere professioniste e impiegate, 13%. Non tutte poi sono singolo, solo il 35% dei casi, molte sono sposate o divorziate. Quanto infine le motivazioni che le spingono a cercare un diversivo a luci rosse, esse vanno dalla ricerca del buon sesso alle carenze affettive, sino alla pura curiosità. Tornando nell'ambito riminese, il riscontro, come detto, è increscendo, anche se è difficile quantificarlo in numeri e soprattutto riconoscerli sul campo di lavoro, anche perché la prerogativa che la contraddistingue è l'assoluta riservatezza.